Buon compleanno a me, oggi è il mio compleanno, buongiorno e bentornati in un nuovo video è da tantissimo che non registro un vlog, saranno ormai passati più di dieci giorni in queste ultime settimane ho un po' lasciato da parte la macchina fotografica e quindi non ho più registrato nulla, ma oggi ci tenevo a fare un video, un vlog visto che oggi compio gli anni, compio esattamente 29 anni purtroppo ci avviciniamo ai 30 e oggi è il 25 di maggio, faccio gli anni al 25 di maggio e abbiamo già festeggiato in realtà sabato, tra l'altro mi sono fatta fare da una passeggera bravissima una torta super bella e super buona, dopo vi faccio vedere quello che è avanzato ho avanzato un pochettino, quindi ve la faccio vedere, ho praticamente la torta quella con i numeri quindi ho fatto fare il 29 ovviamente e l'ho fatta farcire con la frutta, fragole, lamponi, i macarons e qualche sfumiglia, era davvero super super buona tra l'altro voglio provare a replicarla, voglio provare a farla anch'io vediamo se mi esce buona come la sua comunque, in realtà io sono tutta bella pimpante adesso però è successo, abbiamo un piccolo problemino non so se il video sarà già uscito in caso, ve lo anticipo qui abbiamo deciso di mettere la piscina l'abbiamo montata ieri, abbiamo anticipato dovevamo montarla la settimana prossima invece l'abbiamo montata ieri visto che era una bella giornata io non lavoravo perché adesso sono tornata anche a lavoro ormai è già da una settimana che sto andando a lavoro e domenica prossima devo lavorare quindi abbiamo preferito montarla ieri visto che ero a casa però durante, quando abbiamo iniziato a riempirla già all'inizio perdeva acqua quindi abbiamo notato che c'era una perdita però abbiamo continuato a riempirla essendo comunque una piscina molto grande dopo magari vi faccio vedere ci vuole tantissimo tempo tantissime ore in realtà giorni per riempirla completamente si sarà riempita circa 30-40 centimetri adesso e però stamattina quando mi sono svegliata sono andata a controllare c'era più acqua sui bordi, sui lati della piscina e quindi l'impatto mi è venuto di rendere la piscina quindi ho iniziato a cercare su internet sul sito dove l'ho acquistata perché l'abbiamo presa da internet ma non risulta più disponibile su quel sito allora ho detto vabbè la rendo quindi ho iniziato a svuotarla ho operato il tubo e l'acqua sta uscendo quel poco che abbiamo messo poco, poco mica tanto perché in realtà la piscina è grande quindi comunque di acqua già ne è entrata però la stiamo svuotando e vogliamo chiedere il reso o comunque il rimborso però problema non è più disponibile da nessuna parte ho cercato su qualsiasi sito e non c'è una piscina di numero disponibile di nessuna misura niente di niente tutto esaurito ho provato anche a chiamare due negozi non c'è niente da nessuna parte secondo me un po' il problema anzi principalmente il problema è causato da questo coronavirus che ha bloccato tutto e quindi secondo me sia i shop online che i negozi in generale avevano le piscine rimaste dagli anni precedenti secondo me è questo perché non c'è più niente di disponibile sono tutte su ordinazione però non si sa quando arrivano io l'avevo acquistata in anticipo ad aprile per essere pronta quindi a inizio stagione i primi di giugno aver già la piscina pronta e adesso sinceramente mi scoccia davvero davvero tanto rischiare di o non avere la piscina per l'estate oppure di non riuscire a riparare questa stiamo tra l'altro cercando anche insieme a stia stamattina di chiamare il centro assistenza di questo sito dove abbiamo acquistato la piscina ve lo dico l'ho preso su prezzo forte ancora non posso fare diciamo una recensione negativa perché non le abbiamo ancora sentiti quindi non sappiamo quali proposte mi vogliono fare e non sappiamo come finirà la cosa però vi tengo aggiornate ovviamente e speriamo in bene in realtà cercando un po' su internet poi forse c'è una soluzione ovvero si compra un kit apposta per riparare il pvc il tessuto e si mette perché a quanto pare è una fessura microscopica piccolissima occhio nudo quasi non si vede quindi adesso la sto svuotando tutta poi cerchiamo a piscina praticamente vuota di trovare questo piccolo forellino che c'è e vorremmo comunque andare a coprirla però vediamo cosa ci dice l'assistenza se me la possono cambiare anche se temo di no perché non c'è più quindi come possono cambiarmela se non hanno una piscina da mandarmi comunque detto questo vabbè vi tengo ovviamente aggiornate però sono arrabbiata proprio incavolata mi viene il nervoso perché che sfiga che sfiga mamma mia c'è proprio una sfiga pazzesca questa qui l'abbiamo presa in anticipo per poi ritrovarci la buca e mi dispiacerebbe in realtà anche tenere questa perché comunque non è costata affatto poco essendo comunque una piscina molto grande il prezzo è stato abbastanza impegnativo quindi tenere una piscina che ancora non abbiamo utilizzato già difettata sinceramente un po' mi girano però vediamo e speriamo bene la situazione è questa stiamo svuotando la piscina e si era riempita praticamente fino a qui in realtà qualcosina in più però ci vorrà ci vorranno altrettante ore per svuotarla perché sta uscendo da qui però insomma non esce tantissima quindi ci vorrà parecchio tempo io temo tutta la giornata per svuotarla completamente e la perdita ce l'avevamo qui circa qui ieri ci siamo accorti che c'era una piccola pozzanghera poi durante la notte si è allargata ed è andata anche sulla lunghezza di qui quindi devo per forza capire dov'è il buco è arrivata l'ora di pranzo e mi sono scaldata l'ha tagliata in realtà ce n'è ancora quindi dopo se ho voglia ne mangio ancora un po' questa mi è avanzata ieri l'ho messa un attimo in microonde giusto per scaldarla leggermente perché era in frigorifero poi ovviamente un bel picchiere di acqua di acqua fresca nel frattempo ste sta facendo la pasta però poi io devo scappare devo andare via e quindi sto mangiando prima di lui ho finito di mangiare alla fine mi sono fatta ancora un paio di fettine anche perché non avevo la verdura quindi ho mangiato soltanto quella sta mangiando ste nel frattempo scendo vado a recuperare la torta perché ce l'abbiamo nella cucina della taverna che avevo un po' più di spazio così mangiamo una fettina di torta come dolcetto post pranzo e ne approfitto anche per farvela vedere questo è quello che è rimasto praticamente una parte del nove la torta è stata fatta è stata messa su questo ripiano in legno che voglio conservare quindi poi se riesco lo vado a lavare bene lo voglio conservare per replicare la torta comunque eccola qui con cosa è fatta allora la base è una è fatta con la farina di mandorle poi all'interno nella parte sotto c'è la crema chantilly questa bianca che vedete mentre all'interno c'è la crema pasticcera sopra invece è stata messa tutta crema chantilly le fragole nelle fragole i lamponi poi c'è anche qualche fragola un macarone è rimasto questo macarone alla forse al lampone ce n'erano ce n'era un altro così poi ce n'erano due la vaniglia e poi una spumiglia tra l'altro non so se notate ma nei lamponi c'è la confettura di lamponi che è super buona ed è stata messa anche come base si intravede poco come base sotto è super super squisita poi è bellissima da vedere quindi devo per forza replicarla o comunque cercare di farla il più simile possibile indovinate a chi andrà la fetta più grande con il macarons a me aggiornamento piscina alla fine stamattina dopo tipo 30 minuti di attesa al telefono siamo riusciti a metterci in contatto con il sito dove abbiamo acquistato la piscina che ci ha detto che in realtà avremmo dovuto segnalare questa cosa sette giorni dopo la consegna del pacco ovvero ad aprile che c'era ancora brutto tempo e non non potevamo insomma montarla quindi l'unica opzione qual era era aprire una pratica con loro che poi loro andavano cioè aprivano la pratica insieme a best week perché la piscina è best week e fra noi siamo stati molto contenti insomma del servizio perché avremmo dovuto mandargli le foto mandargli il telo rotto e poi aspettare finché insomma best week non non mandava poi il telo a loro e loro lo mandavano a noi e non si sa la tempistica quindi cosa abbiamo fatto abbiamo chiamato noi direttamente best week sono stati carinissimi e mi hanno detto che mi mandano un telo nuovo completamente in garanzia spedizione tutto a carico loro come è giusto che sia non so bene che in questo caso le tempistiche però per come mi ha parlato l'operatore sembra una cosa anche abbastanza veloce quindi adesso stiamo continuando a svuotare la piscina vediamo se riusciamo a tappare quel forellino se dovessimo riuscire a farlo teniamo per quest'anno questo telo e l'anno prossimo invece mettiamo quello nuovo quindi nulla mettiamoci al lavoro e lì c'è Alice adesso ci darà una mano anche lei ma che brava bocca è passato un po' di tempo dall'ultima clip che ho registrato perché poi oggi pomeriggio come vi dicevo ci siamo messe io, mia mamma e Alice lei in realtà ha più giocato che tutto però ci siamo messe a svuotare la piscina anche con i secchi quindi un secchio alla volta per svuotarla più velocemente e poi ci siamo fermati tipo dopo un'oretta e abbiamo provato a capire dove fosse la dove fosse il buco la sì il buco perché di un buco si tratta e cercando 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 alla fine l'ho trovato ho dovuto schiacciare un po' la piscina però sono riuscita a trovarlo era proprio sul fondo sulla parte più lunga della piscina quindi visto che in notazione mettono proprio il kit di riparazione lo abbiamo messo abbiamo provato a vedere se perdeva ancora non ha più perso quindi abbiamo continuato a riempirla e ancora adesso si sta riempiendo spegneremo poi l'acqua stasera prima di andare a letto così va più possibile poi domani mattina andiamo giù subito ad accenderla meno male che sono riuscita a ripararla loro però ovviamente mi mandano comunque il telo di ricambio che non utilizzerò questa stagione come vi dicevo prima ma lo conserverò per gli anni futuri e sono contenta sono contenta di essere di aver risolto questo problema perché alla fine ero un po' arrabbiata questa mattina ieri ad essermi trovata diciamo la piscina nuova già buca però siamo riusciti a ripararla e adesso mi sono resa conto che ancora non vi ho fatto vedere il regalo che mi ha fatto ste per il compleanno poi magari vi faccio vedere anche quello che mi ha regalato mia sorella e quello che mi ha regalato la mia nipotina con i miei cognati il regalo di ste non me l'aspettavo e mi piace tantissimo ne approfitto anche per farvi vedere la nuova postazione di ste ha recuperato qualche settimana fa da casa dei suoi questa questa sedia proprio da ufficio che aveva nel suo ufficio appunto perché stando comunque otto ore al giorno è decisamente più comoda rispetto a queste quindi momentaneamente il suo studio è qui in sala da pranzo questi invece sono i fiori che ho preso da Lidl ve li ho fatti vedere anche su su instagram in realtà adesso si sono un po' rovinati perché comunque sono già 5-6 giorni che li ho però quando li trovo li prendo sempre i tulipani mi piacciono tantissimo e mi piacciono qui sul tavolo della sala da pranzo oppure in cucina e ripeto ogni volta che li trovo da Lidl li compro sempre ma adesso veniamo al regalo vediamo se qualcuna indovina quando ho visto il pacchetto confezionato perché poi c'era proprio il pacco regalo con la carta non fatto da lui perché era perfetto l'ha aiutato sua mamma non immaginavo che fosse poi quello quello che è ovvero delle scarpe da ginnastica delle sneakers vediamo se riesco con una mano ad aprirle ok ecco qui c'è la sua pochettina diciamo per conservarle io in realtà però non non le utilizzo queste sono le golden goose e guardate che meraviglia sono tutte bianche già posso far farvele vedere allora tutte bianche con la stella grigia e poi nella parte diciamo sul tallone c'è il il logo sul rosa e poi questa parte invece è in tipo in suede grigio scuro come la stella mi piacciono davvero tantissimo io queste cioè le scarpe da ginnastica in generale le sfrutto davvero tanto e questo genere di scarpa lo metto anche con magari dei vestiti o delle gonnelline quindi ho apprezzato tantissimo questo splendido regalo faccio vedere anche l'altra dove che questa a differenza dell'altra ha il logo qui sul sulla scarpa mentre invece l'altra non ce l'ha mi piacciono davvero tantissimo mia sorella invece mi ha regalato l'orchidea sa che mi piacciono tanto però a differenza di quelle che di solito prendo io che sono c'è solo proprio la pianta il fiore lei me l'ha presa già composta anche con il vaso che ho messo qui all'ingresso accanto alla candela di ava e mei trovo che ci stia benissimo con insomma i colori dell'ingresso che sono un po' tutti sul rosa perché le candele sono sul rosa e anche il vaso è sul rosa però c'è una punta di azzurro qui al centro in realtà i miei colori preferiti in casa sono il bianco il legno il rosa e il carta da zucchero comunque l'azzurro in generale comunque questa è l'orchidea spero mi duri così il più possibile comunque se avete qualche consiglio per lasciarla sempre bella per farla durare il più a lungo fatemelo sapere mi ha detto di darle da bere una volta circa ogni 10 giorni non di più è qui all'ingresso dove abbiamo il finestrone quindi prende anche parecchia luce e mi piace tanto proprio la composizione ho apprezzato tantissimo e poi i miei cognati mi hanno regalato è apparso stessa più to palestra brava io ho mollato devo dire che ho mollato devo riprendere perché ho mollato forse non ve l'ho più detto perché perché avevo un dolore qui sotto sotto il seno ero caduta avevo preso una botta e inizialmente pensavo fosse si fosse rotta una postola almeno così mia svozzola mi aveva detto perché anche a lei è già capitato e invece poi nel giro di dieci giorni mi è passato quindi non ho dovuto più fare sforzi ho smesso di fare palestra e poi non sono più tornata però devo tornarci comunque dicevo mi hanno regalato questo rituale corpo al cocco io amo il cocco lo sapete c'è il il bagno doccia e il la crema corpo se non ricordo male bagno doccia esatto e lozione per il corpo non vedo l'ora di provarli poi Alice mi ha fatto questo bellissimo bigliettino di auguri tanti auguri Giada con la torta 29 e un po' di decorazioni anche lei come me ama tutti gli washi tape tutte le cose di evidenziatori colorati belli carini poi della Nivea questo questa mousse da utilizzare sotto la doccia dovete sapere che tantissime volte al supermercato l'ho notata e ho sempre tentato di prenderla poi vuoi o non vuoi non l'ho mai presa perché comunque tanti prodotti lo sapete però sono iper curiosa di provarla anche questa perché è alla vaniglia e al caramello altri due gusti preferiti per me sapete che io amo molto le profumazioni dolci vaniglia caramello cocco mandorla tutte queste cose mi piacciono quindi non vedo l'ora di provare anche lui sotto la doccia il profumo è super buono poi con i prodotti di Nivea mi trovo sempre molto bene e poi delle maschere che le faccio spessissimo queste sono della Garamie tra l'altro non le ho mai provate quindi sono proprio curiosa di provarle una è al latte di cocco e acido ialuronico per pelli secche e spente è una maschera nutriente ed illuminante ed è questa qui con appunto il cocco e poi questa verde invece con latte di mandorla e acido ialuronico questa è una maschera nutriente riparatrice per pelle secca e che tende a tirare sono super curiosa di provare anche queste perché non le ho mai provate e le maschere in tessuto specialmente adesso che arriva il caldo mi piace farle di più rispetto alle maschere in crema perché mi danno proprio quella sensazione di freschezza sul viso e in estate appunto preferisco utilizzare questo tipo di maschera rispetto a quella a quella in crema ok vi ho fatto vedere le cosine insomma che ho ricevuto in questi giorni in questi giorni perché in realtà mi hanno dato queste cose il sabato quando abbiamo fatto una piccola festa qui a casa niente di che c'erano i miei genitori i genitori di Stefano e appunto i miei cugnati che abitano qui accanto a me però poi non è venuto nessun altro abbiamo mangiato abbiamo fatto una grigliatina e poi abbiamo festeggiato mangiando la torta che era ripeto super buona e poi va bene le nonne mi hanno dato la mancetta ormai è un classico anzi però quest'anno forse ve l'ho accennato su Instagram qualche settimana fa mia nonna materna mi ha regalato o meglio mi ha dato la mancetta io mi sono presa la scopa vapore della Lidl che tra l'altro mi piace molto la sto utilizzando parecchio qui in casa per pulire il pavimento senza utilizzare continuamente i detersivi anche perché quello della folletto mi si era rotto se lo sapete però questo weekend mia zia mi ha sistemato anche il panno dalla sarta quindi mi ha cucito tutto così non dovrebbe più staccarsi però ancora non ho avuto modo di provarlo non l'ho ancora provato speriamo in bene che tenga questa volta e nulla questi sono stati diciamo i regali che ho ricevuto adesso è quasi ora di cena non so bene che orario sia però è quasi ora di cena tra l'altro c'è ancora un sole bellissimo oggi amo il mio compleanno perché cade sempre in una giornata di sole raramente c'è brutto tempo poi inizia a fare caldo arriva la bella stagione l'estate quindi amo maggio e amo il giorno del mio compleanno lo amerò un po' meno l'anno prossimo perché farò i 30 anni ma vabbè devono arrivarci tutti prima o poi cioè si spera quindi va bene così passeggiatina prima di cena con le piccole moca si firma sempre quando arriviamo qui sulla stradina con i sassi quindi devo toglierle il guinzaglio e allora va altrimenti si blocca gioia invece appena la liberi parte le piace tantissimo camminare qui qui nei campi tra l'altro si sta anche da dio c'è una temperatura magnifica moca sei a passeggio? ma che bello ho appena finito di fare la doccia come si può notare sono in bagno sono in accampatoio e c'è anche il vetro della doccia tutto appannato mi stavo dimenticando di chiudere il vlog mi ero completamente dimenticata non so neanche che ore sono ok ho il telefono qui perché mi sono persa via abbiamo mangiato sono le 21 e 29 e non avevo ancora chiuso il video quindi eccomi qui spero che questo video vi sia stato di compagnia se è stato così mette un pollicino in su ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e voglio ringraziarvi pubblicamente anche qui l'ho già fatto su su instagram con una foto però qui su youtube ancora non avevo avuto occasione di farlo grazie mille perché abbiamo raggiunto i 100.000 iscritti non me l'aspettavo quando 5 anni fa ho aperto il canale era un traguardo insomma che non mi sarei aspettata di raggiungere sono molto contenta ma questo è sicuramente merito vostro perché mi seguite sempre con tantissimo affetto quindi davvero grazie di cuore vi mando un mega bacione e ci vediamo presto con un nuovo video ciao